Ciao, io sono Jill Cooper, sono qui per farvi capire come indossare Q-On. C'è letto, è molto facile. Innanzitutto la parte di Q-On che viene rivolta verso la pelle è la parte senza alcuna scritta, allora dove c'è la parte ruvida del dispositivo verde. La metterete in contatto con la pelle, sopra l'osso del polso, ma la cosa importante è che non deve essere né troppo stretto né troppo largo, perché è importante che sta in contatto con la pelle. Così, la cosa importante è che prima di toglierle o prima di applicare proprio l'adesivo, di essere di sicuro che c'è un minimo di gioco, ok? Un poco poco di gioco per permettere il braccialetto a girare. Tieni un attimo. Per permettere il braccialetto di girare sul tuo polso, ma non costringere o non strozzare il vostro flusso sanguigno. A questo punto, con l'aiuto di un amico o di un'amica, toglierete l'adesivo, tieni, e proverete di allineare le due, diciamo, parti più che possibile, senza strozzare, per essere sicuri che non è né troppo stretto né troppo largo, e l'applicherete il vostro cuon. A questo punto, posizionate, diciamo, la parte centrale sopra la parte inferiore del polso. Ci potete fare la doccia, potete fare i bagni, potete fare qualunque cosa, perché tanto rimane legato sul vostro polso per mesi e mesi e mesi. E buon viaggio con il vostro cuo. Grazie.